La mousse mangiami a base di granchio e avocado come primole, farfalle nello stomaco con tanto zafferano, poi le intriganti scaloppine spolverate di tartufo e per finire baci di cioccolato. Queste le ricette della cenetta ideale proposta dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia per stimolare il desiderio con un occhio alla salvaguardia della fertilità. Sono scelte tra i 30 piatti selezionati per il libro Cibo e Sesso realizzato dalla società nell'ambito del progetto Scegli Tu per spiegare come sia possibile accendere la passione e salvaguardare la fertilità. Tra gli alimenti hot oltre a peperoncino e molluschi raccomandati gli asparagi, la rucola, i fichi, il miele. Da bocciare invece i troppi conservanti, gli zuccheri raffinati e i grassi saturi. Ma occhio anche ad alcol e caffè, soprattutto alle dosi. L'eccessiva quantità stronca l'eros così come il fast food. A presto. 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 A presto.